Dai caprioli agli scogliattoli, dai ricci ai pipistrelli, ma anche ghiri ed uccellini. Sono infatti più di 3.000 gli animali selvatici che l'Associazione SOS e Animali ha salvato lo scorso anno, ma che adesso potrebbero rischiare di morire di freddo o di fame. Per questo la Ollus in vista della prossima primavera lancia un appello ai comuni. Molti di questi animali, se non presi in tempo, se non curati per tempo, alimentati per tempo, sono destinati alla morte. Se infatti per il recupero degli animali selvatici adulti l'Associazione è incaricata e riceve un contributo dalla Regione Toscana, per i cuccioli devono essere formalizzati specifici accordi con le amministrazioni comunali, senza i quali la Ollus dovrà inevitabilmente sospendere l'attività e dovranno occuparsi nei comuni. Ovviamente occuparsene da soli è una cosa un po' complicata, perché sono cose molto specifiche. Noi lo sappiamo, ci organizziamo prima dell'arrivo della stagione, abbiamo tutti i nostri, sia volontari che anche veterinari, che sanno esattamente come stabilizzare un animale piccolo. Senza questo accordo con le amministrazioni comunali, però, voi non siete in grado di gestire anche il carico economico? Sì, anche perché i piccoli stanno con noi molto più tempo rispetto all'adulto, perché comunque il nostro scopo è quello poi di arrivare a darle di nuovo la via nel loro habitat. Da qui l'appello ai 99 comuni nei quali la Ollus è autorizzata ad intervenire, ossia nei territori di Arezzo, Siena e Grosseto. Attualmente solo sette amministrazioni hanno firmato la convenzione.